Tre bellezze sportive, tre modi diversi di dominare la strada, tre sfaccettature della serie 2. Ma tu quale sceglieresti? La 230i, dove aggressività e comfort si incontrano per emozioni senza limiti. M240i, per stazioni senza compromessi e design audace. Motore B58 6 cilindri da suono inconfondibile, trazione integrale per il massimo controllo e dettagli di stile che fanno la differenza. Infine c'è la M2, per chi pensa che anche il massimo non sia abbastanza. Motore S58 da 480 CV, assetto dedicato e tanto carbonio all'interno. Prestazioni mozzafiato e precisione assoluta per un'esperienza di guida senza compromessi. Grazie a tutti.